Maria Chiara Boscia, bellezza giovanissima pesarese, trapiantata alla spezia da tantissimi anni. La vincitrice del premio che Rossini TV insieme alla Victoria Libertas, Carbegna Prosciutto Basket Pesaro, ha indetto per la trasmissione insieme a Canestro per il commento più bello, giunto nelle 25 puntate che hanno accompagnato la storia della VL in questa stagione. Maria Chiara, sei contenta di aver raggiunto questo traguardo? Sì, sì, molto, perché poi comunque sono grande tifosa della VL, quindi sì. Una maglietta che indosserai oppure la appenderai come tanti cimeli che trovi qui nella nostra sede? No, questa la appendo, perché comunque ci sono anche tutti gli autografi dei giocatori, quindi sì, bisogna appenderla. Ti aspetti la prossima stagione di livello come quella appena trascorsa? Speriamo di sì, ma si punta anche più in alto. Ario, Maria Chiara è una giovanissima tifosa, avete dimostrato quanto ci tenete non solo ai tifosi pesaresi, ma anche ai pesaresi trapiantati fuori. Questo è un segno di riconoscimento per l'attaccamento alla maglia e ai colori. Vuoi ripetere ai nostri ascoltatori perché scegliesti quel commento? Prima di tutto complimenti, brava Chiara, io credo che questi tifosi, questa passione che noi sentiamo anche, non solo a Pesaro, ci fa ancora più piacere perché significa che anche da lontano ci guardano, grazie a tutti quelli che sono oggi i sistemi di informazione, quindi siamo ben felici che Chiara abbia vinto. Il perché abbiamo scelto lei, credo che era il commento più simpatico, più vero, più, ripeto, anche più esteso, ripeto, in tutta Italia. Quindi speriamo che ti diamo alle soddisfazioni in futuro e tu continua a tifarci. Ario, invece se ci vuoi guardare qualche anticipazione o ancora bocche cucite per i prossimi sviluppi, aspettiamo il torneo preolimpico? L'unica cosa è che è arrivato il caldo, comincia a sentirsi il caldo, quindi significa che stiamo entrando nei mesi decisivi per la costruzione della nuova squadra. Stiamo lavorando, di novità mi piacerebbe darne, ma non ce ne sono, siamo in un momento di totale stand-by per mille motivi. Non è che stiamo con le mani in mano, lavoriamo, ma ripeto, oggi bisogna, prima di sviluppare la squadra, abbiamo svolto tutti i doveri e i compiti per l'iscrizione al prossimo campionato, che non sono cose semplici, non è una banale domanda, ma sono tanti, tanti documenti importanti e quindi siamo a posto. Stiamo chiudendo la stagione appena finita, per la quale abbiamo premiato Chiara e poi dal primo luglio avanti penseremo al futuro. A Rio oggi iniziano gli europei di calcio, allo stadio olimpico 16.500 spettatori potranno assistere alla cerimonia di apertura e alla gara inaugurale con Italia-Turchia. Un segnale di speranza e di ottimismo che ci fa ben sperare per l'apertura anche alla vitrifrigo di una bella capienza, non soltanto 500 posti. Sì, oggi sicuramente inizia per il mondo intero, per l'Europa in questo caso, una grande manezza sportiva, quale campionato europeo di calcio, a cui tutti bene o male, tifosi o meno, ci teniamo. E' della grande altra vittoria o speranza che si riparte, si riparte col pubblico, perché senza la Chiara di turno noi non possiamo sopravvivere. Senza i nostri tifosi lo sport è tutta un'altra cosa. Quindi da oggi speriamo che si vada sempre via via migliorando, perché sono due cose importanti. La prima significherebbe che questa pandemia sta finendo e la seconda rivedere gli stadi, i palazzetti con un po' di gente.